Benvenuti a Leggenda Festival, io sono Antonella della Biblioteca Comunale Renato Fuscini di Empoli, ringrazio Fondazione SESA, Unicop Firenze, VoIP Voce e Inside Factory. Oggi pomeriggio sono qui con le ragazze leggendarie Carolina, Isabel, Gemma e Viola che ora vi salutano tutti. Salve, salve, salve. Bene, ed ora passo la parola a Viola che apre l'incontro. Grazie, buon pomeriggio, siamo qui in occasione del Festival Leggenda di Empoli in compagnia dell'autore Tommaso Percivale. Tommaso ti ringraziamo per la sua partecipazione, noi facciamo parte del gruppo dei ragazzi leggendari ed abbiamo preparato per te alcune domande. Piacere, io mi chiamo Viola. Scrivere i libri gialli si ispira a qualche autrice, autore? Quali sono i suoi preferiti? Io ho avuto la fortuna di iniziare a leggere molto molto giovane perché mia mamma era professoressa di italiano alle medie, appassionata lettrice e questo ha fatto sì che la vedessi sempre col naso dentro qualche libro. E da bambino mi dicevo, ma cosa ci trova di così interessante dentro questi libri? Ma mai fa bruciare il cibo nella pentola e noi dobbiamo mangiare il gelato a pranzo perché lei si è distratta? E quindi ho scoperto presto che leggere era divertente, era entusiasmante, era un qualcosa di bello da fare. Questo ha fatto sì poi che negli anni sviluppassi gli strumenti che mi sarebbero serviti per diventare scrittore, ma io non lo sapevo ancora. Lo facevo solo perché mi piaceva. La seconda parte della domanda riguarda questo. Avendo letto tanti libri, migliaia di libri, mi viene difficile trovare qualcuno in particolare che mi abbia influenzato. Sicuramente da un punto di vista, come posso dire, spirituale c'è il grande Stephen King. Non tanto per il suo stile, che trovo comunque ancora oggi incredibilmente affascinante. Lui è bravissimo, crea dei personaggi che ti portano via. Tu vuoi conoscerli, vuoi stare lì con loro, anche se vivono le avventure più atroci e terribili perché scrive i libri horror. C'è però una cosa che mi ha insegnato, che per me è molto importante, è che il lettore, scusami no, lo scrittore non scrive per far vedere quanto è bravo e quanto intelligente, non scrive per far vedere quante parole conosce. Quella è una cosa che fanno i tromboni delle università. Noi scriviamo perché siamo al servizio del lettore. Noi dobbiamo intrattenere il lettore. Possiamo anche scrivere storie impegnative, che hanno una forte componente storica, quindi che hanno delle informazioni che in qualche modo, mi dispiace usare questa parola, ma che in qualche modo insegnano qualcosa, che hanno dei messaggi. Ma non è questo l'importante per me. Questo viene dopo. La cosa importante è che il libro sia affascinante, che il libro conquisti il lettore fin dalle prime righe, da quello che si chiama l'incipit del libro, no, proprio l'inizio. E lo deve tenere stretto, intrappolato nelle pagine, fino alla fine. Questo è un concetto che ho conosciuto attraverso Stephen King, che è un grande maestro in queste cose, e cerco nel mio piccolo di fare la stessa cosa. Quindi ecco, se devo citare qualcuno che mi ha influenzato, cito lui, però solo per questa ragione, perché altrimenti cerco di sviluppare uno stile mio, una voce mia, che mi renda un pochino diverso, no? Qualcuno che dica, ah, voglio leggere proprio un libro di Tommaso perché è diverso dagli altri. Magari potesse succedere una cosa del genere. Ma un pochino secondo me è già successo, per certe cose, dai. Grazie. Grazie mille. A te la parola Carolina. Grazie. Buonasera, io mi chiamo Carolina e le volevo chiedere da quanto tempo scrivi e da dove è nata la passione per la scrittura, oltre ad essersi ispirata a Stephen King? Allora, io scrivo da una quindicina di anni, circa. Ripetimi un attimo la seconda parte della domanda. Dove è nata la passione per la scrittura, oltre ad essersi ispirata a Stephen King? Ok. Ti dico la verità. Quando avevo la vostra età sognavo di fare il programmatore di videogiochi. È una passione che mi porto dietro ancora oggi. Videogiochi che però devono raccontare una storia. Non videogiochi di azione pura. Ci deve essere un modo per raccontare una storia. E ancora adesso sono affascinato da certi capolavori che arrivano ad emozionare il giocatore in maniera originale e in maniera completamente nuova. Nella vita poi ho fatto tanti lavori diversi. Ci sono stati tanti imprevisti che mi hanno fatto cambiare idea, che mi hanno permesso anche di fare esperienze che mai avrei immaginato. Sono diventato per esempio stuntman specializzato nei combattimenti medievali. Ho lavorato quindi con la mia spada e vestito con il mio costume medievale. È stato molto bello, mi ha insegnato un sacco di cose, ho conosciuto un sacco di persone straordinarie in questo modo. E queste sono le esperienze che ti arricchiscono come scrittore. Che se sei abbastanza curioso e attento, ti danno quel qualcosa in più che ti permette di affascinare il lettore. Però ho scoperto molto avanti che questa passione era la passione per le storie. E non era il videogioco in sé. Semplicemente sono stato coinvolto in un progetto per Mondadori, quindi ho cominciato subito con la casa editrice più grande che c'era, da un amico carissimo che era già diventato uno scrittore molto famoso, che era Pierdomenico Baccalario. Sapeva che aveva un archivio di notizie strampalate che io raccoglievo da internet e conservavo archiviate in maniera ordinata come hobby, come divertimento mio personale, perché sono una persona un po' strana effettivamente. E sapeva che avevo questo archivio e mi ha detto sfruttiamolo, facciamo questo libro insieme. Ed è uscito un libro che si intitolava Le più straordinarie curiosità sugli animali per una collana di Focus Junior, la rivista scientifica per ragazzi. Ed è piaciuto tantissimo questo libro. Ha venduto più di 100.000 copie, è stato in catalogo 12 anni, mi sembra. È uscito da poco dal catalogo. È stata una grande soddisfazione e questo mi ha fatto entrare nel meccanismo, da una parte mi ha fatto conoscere le persone del mondo editoriale, dall'altra ho cominciato a lavorare al computer battendo i tasti sulla tastiera, capisci? Mettendo le parole in fila. Ho cominciato a tirare fuori quello che avevo accumulato per tutta la vita. E ho scoperto che mi piaceva e ho scoperto, meglio ancora, che mi riusciva abbastanza bene da poter continuare a lavorare. E poi ho fatto esperienze di vario tipo fino a che non è uscito Ribelli in fuga, che è il mio romanzo ancora adesso più venduto, che è stato il primo autoriale e che mi ha fatto conoscere al pubblico. Grande successo e adesso mi dà l'opportunità di scrivere con una certa libertà le storie che mi affascinano di più perché gli editori mi danno tanta fiducia. È una grandissima soddisfazione sia a livello professionale ma soprattutto a livello personale da autore. È come avere una medaglia per me. Grazie mille della sua risposta. Passo la parola a Gemma. Gemma. Grazie. Salve, io mi chiamo Gemma e volevo domandarle se è stato difficile iniziare a pubblicare i suoi libri e come ha fatto a farsi conoscere. Allora Devo dire può sembrare che essendo stato introdotto da un amico già famoso mi abbia in qualche modo messo in una posizione di privilegio e di vantaggio. È vero questo ma non nel modo in cui si intende generalmente. Quando si dice ah è amico di allora fa carriera. Pierre mi ha insegnato molto e oltre a essere un amico caro con un rapporto che dura da tanti anni è stato anche un maestro per me perché lui era già bravo a scrivere. Lui ha un talento grandissimo e naturale che rende i suoi testi molto speciali e io lavorando insieme a lui ho imparato tantissimo. Però quando ci metti il tuo nome sul libro sei tu che lo scrivi non è un altro che da una spintina se il libro non è buono non lo può trasformare in una storia bella solo perché ti conosce. Questo vuol dire che quando ho cominciato a proporre le mie storie non avevo nessun tipo di presentazione ero io che avevo conquistato una certa fiducia da parte dei professionisti, degli editori e che però provavo una cosa nuova. Quindi l'unico vantaggio che ho avuto era che sapevo già a chi mandare la storia l'unica cosa che è quello che poi tutti gli scrittori esordienti dovrebbero fare andare alle fiere come quella di Bologna dove ci sono tutti i rappresentanti delle case editrici e esaminare i loro cataloghi in modo da inviare le proposte a quelli che pubblicano libri simili a quelli che abbiamo scritto. Se scrivi un libro poliziesco non lo devi mandare all'editore specializzato in storie d'amore perché non lo metterebbe mai in catalogo. Quindi devi sapere queste cose e poi conosci le persone giuste che sono quelle che esaminano i libri e lo mandi direttamente a loro in modo che non vada perso nella posta. Detto questo, se il libro è buono viene pubblicato se il libro è brutto non viene pubblicato. Non c'è raccomandazione non c'è scorciatoia c'è poco da fare devi essere bravo a scrivere. Il libro che ha fatto sì che venisse apprezzato anche come autore era stato proprio Ribelli in Fuga è per questo che sono così affezionato e legato a quel titolo perché ha trasformato il modo in cui le persone mi guardavano e per me è stato quindi fondamentale. Poi mi ha dato l'opportunità di sperimentare anche cose nuove ho scritto dei libri di fantascienza che in Italia è difficilissimo scrivere fantascienza per ragazzi nessuno ci crede e purtroppo c'è una forte resistenza da parte per esempio dei librai o delle insegnanti che non conoscono bene la fantascienza quindi non la propongono come lettura nelle scuole è un po' un handicap che abbiamo in Italia ma bisogna anche convivere con queste cose e ho risposto a tutta la domanda non mi ricordo più sì? C'era una seconda parte forse? Io parlo parlo poi mi sbaglio ma secondo me no non mi risposto sì 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 comunque per pubblicare a meno che tu non sia una persona tipo un influencer che è famosa per conto suo e qualcuno vuole sfruttare questa fama per vendere dei libri non puoi scappare da una legge fondamentale deve essere una bella storia scritta bene fine grazie mille per la risposta passo la domanda io grazie io volevo chiedere per quale motivo nel libro il caso dei 66 secondi i casi vengono risolti da un gruppo di ragazzi anziché di ragazzi cioè da un gruppo di ragazze anziché di ragazzi beh perché no cos'hanno le ragazze in meno dei ragazzi è una risposta troppo troppo corta io penso che ci sia capisco è la natura della tua domanda perché ancora oggi nonostante tutto le donne sono considerate esseri umani di serie B lo dimostra il fatto che per esempio a parità di lavoro vengono pagate il 25% in meno a parità di incarico e di responsabilità le donne sono pagate un quarto in meno degli uomini è una cosa enorme ingiusta e barbara secondo me fino a pochi anni fa fino alla seconda guerra mondiale le donne in Italia non potevano neanche votare non è passato tanto tempo non è passato tanto tempo è una cosa indubbiamente che va affrontata e secondo me perché non dare spazio alle ragazze nei libri se lo meritano ci sono i ragazzi ci sono le ragazze in questo caso sono quattro amiche che hanno delle caratteristiche particolari ma non perché sono ragazze per le loro curiosità per le storie personali che hanno e che sono unite da questa profonda amicizia da questa sete per la verità per scoprire i crimini più strani più bizzarri c'è anche una di loro tra l'altro che incarna un pochettino questa posizione ingiusta della donna che è Candice che non so se sei presente lei studia all'università perché è estremamente intelligente però all'epoca stiamo parlando della Londra di fine ottocento le università erano chiusa le donne non potevano studiare a livello universitario quindi lei si deve travestire da uomo e visto che ha la vocettina dalla ragazza fa finta di essere muta il massimo dell'assurdità però all'epoca se fosse esistita una come Candice avrebbe dovuto fare così per studiare per diventare una scienziata e quindi ne ho approfittato oltre ad affrontare l'argomento per enfatizzare ancora di più questa situazione assurda è una serie di libri quella dell'Ordine della Ghirlanda che fa molta attenzione alle contraddizioni che soprattutto vivevano nella Londra di quegli anni per esempio conviveva la magia lo spiritismo queste credenze anche un po' pagane con la scienza con la tecnologia e in questo caso l'ho affrontato anche a livello personale con le protagoniste però diciamo non è che voglia fare una campagna femminista penso di affrontarla nella maniera più naturale possibile a volte i protagonisti sono ragazzi in questo caso sono ragazze grazie mille passo la parola a Viola secondo giro io mi ero chiesta perché nel libro il mistero di Villa delle Ginestre avuto di chiamare l'ispettore William Shakespeare e perché l'ha rappresentato come un orango perché non è una una figura tipica di un detective di solito in un giallo beh questo lo rende già un po' speciale lo rende originale e curioso io credo che il giallo sia disposto su due livelli distinti c'è il livello più nascosto il livello più basso che non si vede che è quello della verità è la realtà come la conosce l'assassino il colpevole chi è qual è la sua identità perché uccide e come poi c'è un secondo livello che è quello che invece vede il lettore e vede l'investigatore che è quello delle menzogne è un velo che viene allargato dal colpevole per nascondere le sue malefatte per non essere arrestato lo scopo della storia che è quello dell'investigatore è quello di bucare il velo delle bugie e arrivare al livello della verità quindi c'è un inganno che si vede molto bene anche nella serie della oddio adesso mi viene della ginestra della ghirlanda si vede molto bene perché i casi sono costruiti proprio come degli eventi che mascherano qualcosa di molto più grande di molto più terribile è proprio evidente questa differenza tra livelli in Shakespeare noi abbiamo un primo livello che inganna il lettore che è quello del nome perché quando tu pensi a Shakespeare pensi al grande scrittore a questo grande poeta raffinato romantico che viveva di notte quindi era un po' palido io me lo immagino ma penso anche voi un po' magro belloccio con tante ragazze questo fascino un po' torbido anche per chi vive la notte in quel modo lì un artista e invece noi ci troviamo l'orango come dicevi tu questo è un argomento che sembra aver combattuto nelle cantine più sordide ma anche questo è un inganno questo è un secondo livello di bugia perché lui è bravo non perché usa i muscoli ma perché usa la testa quindi un pochino la la struttura del giallo questa sua natura di duplice di bugia e verità è incarnata nel protagonista della della storia poi c'è anche Greta naturalmente che ha altre caratteristiche ma nel caso di Shakespeare la ragione per cui è stato chiamato così è questa un doppio depistaggio del lettore quindi più sorprese da scoprire grazie mille per la sua risposta passo la parola a Carolina io ho letto due suoi libri e ho letto Il mistero di Villa delle Ginestre e Nelson Mandela però mi piacerebbe farle la domanda su Mandela e voglio chiederle tra tutti i personaggi famosi del passato perché hai scelto proprio di raccontare la sua storia? Hai ragione ce ne sono tanti di coraggiosi ed eroi e io sono stato affascinato da due cose di Nelson Mandela la prima è il fatto che lui combattesse con le parole e con le idee era un avvocato e quindi non non combatteva con le armi lui utilizzava le parole e le idee grandi parole grandi idee e l'altra cosa che mi ha affascinato le idee sono molto potenti molto potenti spostano il mondo l'altra cosa che mi ha affascinato è la sua incrollabile fiducia in queste idee quando è stato arrestato messo in carcere duro una persona qualunque sarebbe impazzita la vita che ha fatto per tutte quelle decadi non pochi mesi non poche settimane 30 anni quasi avrebbe distrutto la mente il fisico di tutti e lui ha resistito perché credeva in quello che faceva lui sapeva che stando lì accettando quella prigionia in quel modo avrebbe comunque portato avanti le sue idee isolato dal mondo vessato in mille maniere il fatto stesso che fosse lì era un grande simbolo per tutti quelli che erano fuori e era come se l'energia che gli serviva per tenere duro lì dentro venisse poi trasferita gli altri fuori che continuavano la lotta che continuavano a credere in quello in cui credeva lui quindi una persona senza dubbio speciale che però se trascure il fatto che era un principe ma un principe di una tribù africana che tutto sommato non contava niente no? era importante a livello culturale ma non aveva nessuna influenza nel mondo dei bianchi dell'apartheid e non gli ha dato nessuna opportunità speciale per diventare così importante ha costruito tutto con le sue braccia quindi nonostante fosse partito tutto sommato dal niente è riuscito a diventare un professionista quindi un avvocato una persona che ha studiato e si è creata una posizione e poi un attivista che ha combattuto contro uno dei regimi più difficili e più efferati del mondo moderno e lo ha sconfitto il Sudafrica ha ancora tantissimi problemi e ci sono ancora tanti problemi tra bianchi e neri senza dubbio ma rispetto a prima le cose sono cambiate tantissimo e questo processo che ha messo in moto dura ancora oggi e le cose stanno cambiando piano piano speriamo che arrivi a un punto in cui finalmente si possa dire Mandela ha vinto Grazie mille per aver risposto passo la parola a Gemma Grazie io volevo domandarle come ha fatto a immaginare nel libro Il delitto allo specchio il collegio degli orologi e il rapporto tra Sivile e Irina Due domande in una può darsi che una me la perda mentre penso la risposta dell'altra quindi preparati già che ti richiederò la seconda domanda allora nel delitto allo specchio parlerò al plurale perché io lavoro con una bravissima scrittrice incredibilmente sensibile dall'animo poetico che si chiama Sara Rossi questo libro è stato scritto con lei anche se il nome in copertina è il mio per varie ragioni e sono orgogliosissimo di poter collaborare con lei perché ha questo talento sconfinato che rende veramente speciale costruire le storie e te lo specifico perché queste idee che hanno reso così particolare l'ambientazione di delitto allo specchio si sono coagulate intorno alla scena dell'omicidio ci è venuto in mente questa non posso fare spoiler quindi devo stare attento a quello che dico però il fatto che ci fosse un testimone che assiste a un omicidio brutale di una ragazza che viene sfigurata e subito dopo si trova davanti la vittima completamente illesa questa è stata la scintilla della storia ok è nato tutto da lì intorno abbiamo voluto costruire uno scenario che permettesse di arrivare a quel punto è un omicidio molto strano anche questo sembra un po' un gioco di prestigio però deve essere realistico la persona che si è macchiata di questo crimine lo ha fatto per una certa ragione e quando arrivi alla fine del libro scopri chi è e perché ha agito tutto ha senso anche il modo in cui ha agito ha senso perché è un tipo di persona così mamma mia com'è difficile parlare senza senza rivelare segreti o misteri quindi per arrivare a questo pian piano abbiamo aggiunto delle idee che si sono accumulate una sull'altra scuola femminile scuola femminile per ragazze ricchissime quindi una scuola esclusiva isolata speciale con insegnamenti particolari e il fondatore deve essere particolare deve essere una persona un po' matta che le rende questo luogo unico un appassionato di orologi allora tutto pieno di orologi e le idee nascono poi così e a volte sono talmente folli che non è possibile incastrarle in niente a volte invece poi illuminano tutta la storia con la loro luce con la loro follia in questo caso c'è moltissima follia non abbiamo usato al massimo tutte le idee per esempio c'è la location del laboratorio di Zimmerman che è usata poco invece sarebbe stata devo dire la verità nella tesura originale del libro il grande scontro tra Tobias e il colpevole si svolgeva lì poi abbiamo cambiato idea abbiamo modificato un pochettino in maniera più drammatica ma anche un po' più cinematografica per cui è rimasta una stanza molto affascinante che non è tanto sfruttata però tutto il procedimento creativo è questo un esempio particolarmente calzante è la statua che si trova nella sala degli specchi la statua della bambina che è l'orologio decorato come una studentessa bambina che ha lo specchio incastrato al posto della testa è un'idea horror che è venuta proprio a Sara che ha reso la scena le scene tutte nella stanza degli specchi ancora più sinistre e ancora più inquietanti quindi si procede così questa storia soprattutto è stata scritta così a volte si parte senza avere una meta dal capitolo 1 e si lascia che i protagonisti guidino la storia in questo caso i gialli hanno bisogno di un controllo un pochino più attento per distribuire gli indizi e i vari segreti nascosti negli angoli della vicenda e l'abbiamo costruita in questo modo la seconda domanda era sui personaggi Irina e Sibir ecco qual era la loro relazione sì e qui devo rivelare il mega spoiler però mi fai proprio dire mi fai proprio vuotare il sacco nella maniera più forse Gemma voleva sapere se c'era non so se ti ha ispirato a due personaggi non so Gemma non consciamente non consciamente penso che questo questa è una storia di ossessione no delitto allo specchio è una storia di ossessione e non è così strano nell'esperienza umana essere ossessionati da qualcosa e indubbiamente si parla di disturbi mentali parlando di ossessione quindi è una distorsione della realtà nella mente di una persona il desiderare di essere qualcun altro fa parte di questa gamma di disturbi mentali e è realistico è realistico ora non mi viene in mente nessuno che abbia fatto un che abbia compiuto degli atti così estremi però potrebbe essere potrebbe essere nella circostanza giusta con l'opportunità che sono le due cose che scatenano poi i delitti tipici dei gialli potrebbe accadere e quindi come dicevo prima questo delitto così particolare è giustificato dalle circostanze e le circostanze sono essenzialmente queste un'ossessione mi viene a mente il film di Hitchcock come si intitola Gli uccelli quello con Kim Novak dove l'attrice in persona viene indotta a impersonare no non l'hai presente c'era un film che si chiamava La donna che visse due volte allora forse La donna che visse due volte però dico la verità non mi ricordo la storia ma è un pochino ecco parlando ora di ossessione ora non è l'ossessione personale però ecco me l'ha ricordato un po' questa questo esempio qua a me piace moltissimo La finestra sul cortile ah la finestra sul cortile sì 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 è una è una gemma se mi permetti come dici è è una gemma La finestra sul cortile è un film gemma esatto e mi adoro anche Caccia al ladro che ogni tanto mi riguardo che è un film particolarmente bello ma ha questi scenari stupendi sulla costa azzurra in qualche modo mi suscita un po' di nostalgia e e poi Intrigo internazionale è un altro film che mi piace molto gli altri li conosco meno effettivamente eh sì questo qui ora mi ricordo vago ragazzi ma voi che avete letto Gialli vi piacciono i film Gialli? avete letto qualcosa di voi che siete leggendarie eh? io ho letto Dieci piccoli indiani di Agatha Christie eh sì ma film l'avete visti? Assassinio sul Nilo e Assassinio sull'Orient Express eh anche quelli quelli nuovi o quelli vecchi? quelli nuovi quelli vecchi o quelli nuovi Assassinio sul Nilo quello nuovo io l'ho mollato non ho scritto malissimo una regia pessima l'ho proprio abbandonato lì Oriente Express nuovo non è non è malvagio però io sono più affezionato a quelli degli anni 70 anche se il Poirot eh di quei film non è l'ideale eh devo dire che hanno quel sapore un po' antico no? ad altri tempi che li rendono ancora un po' affascinanti ecco sì è vero forse in questi c'è la spettacolarità che è un po' troppo esagerata sì 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 è vero Gemma ti ha risposto Sommaso? sì grazie grazie per la risposta passo la parola a Isobe grazie io volevo chiederle tornando al libro dei 66 secondi sì da dove l'è venuta l'ispirazione di mettere una bottega di braccia e gambe di varia fattura e anche di copie di nasi queste sono quelle idee che rendono particolare una storia la non si pensa mai che ci sono persone che per qualche ragione hanno bisogno di una protesi se non le persone che hanno bisogno di protesi e ci deve essere qualcuno che le fabbrica no? ci deve essere un posto dove andare a comprarle che incredibilmente viene fuori una bottega in cui ci sono pezzi di corpi naturalmente non sono corpi veri sono di legno sono realizzati con materiali anche pregiati e per rendere tutto ancora più bizzarro c'è questo fabbricante che di fatto è un artigiano un artista del suo settore che è affascinato dalle forme quindi per esempio incontra Lucy vede questo naso e dice ah io questo naso posso venderlo ai più grandi naso spettacolare e cerca di convincerlo a posare per il naso per chi il naso lo ha perso e un'altra un pochino meno come posso dire elegante di questa ambientazione è quella dell'allevamento di sanguisughe anche questo realistico in quegli anni una pratica medica molto comune era quella del salasso che è usata ancora oggi tra l'altro con le sanguisughe attenzione lo sapete cos'è ragazzi è la tecnica del salasso si toglieva del sangue alle persone utilizzando le sanguisughe che lo ciucciavano letteralmente se ne nutrivano perché si credeva all'epoca non si sapeva ancora bene che il rigenerare del sangue potesse guarire da certe malattie oggi noi sappiamo come funziona esattamente questa cosa e ripeto si usano ancora delle sanguisughe appositamente allevate per quel tipo di pratica che sono steridi che sono fatte in un certo modo sono monouso vengono usate una volta e poi purtroppo buttate via che è una cosa un po' barbara però esiste ancora oggi e in quegli anni là avevo scoperto facendo le mie ricerche strampalate che c'erano persone che di lavoro andavano negli ospedali con dei vasetti di vetro pieni di sanguisughe a venderli ai pazienti che dovevano fare i salassi e allora ho pensato questa è la mente dello scrittore che immagina la sua fantasia che va oltre quello che sa e quando finisce la sapienza inizia la fantasia sapevo che esistevano queste persone allora ho detto ma dove le prendevano queste sanguisughe ci dovevano essere degli allevamenti mi sono immaginato questo allevamento di sanguisughe mi sono immaginato il modo in cui davano da mangiare alle sanguisughe per allevarle col maiale e qui si è creata la scena bellissima del marinaio che arriva per consegnare il pacco e si trova davanti questo dottore questo dottore in un certo senso che arriva con un maiale al guinzaglio tutto coperto da questi animali schifosi lucidi sembrano delle lingue marcite che fanno senso fanno impressione è una scena molto d'impatto di un luogo molto bizzarro ma che esisteva davvero e ce ne sono diversi di luoghi così nella sera della Ghirlanda è un po' la sua cifra è molto ricca da questo punto di vista anche impegnativa da scrivere però mi dà tanta tanta soddisfazione l'altro luogo che mi è piaciuto da Matti era il deposito delle bare che è nell'altro libro però nel villaggio scomparso il villaggio scomparso anche quello mi sono divertito a scriverlo nel testo originale era molto più lunga quella scena adesso non so se l'avete letto quindi non voglio non l'ho letto io però non spoileriamo troppo non spoilerò troppo ma c'è una scena molto angosciante che si svolge in questo deposito che era abbastanza lunga quasi soffocante era però nell'economia del romanzo non ci stava tanto bene quindi poi è stata accorciata però bel posto anche quello bel posto tra virgolette bel posto lo dico da scrittore non da turista trovare luoghi così caratteristici è veramente divertente credete sì ci vuole molta fantasia sicuramente è un po' di coraggio ma quando ti viene a mente una cosa una situazione così anche se non sei nel contesto della scrittura di un libro che fai se la punti da qualche parte per utilizzarla vuoi certo io sempre con me dei quadernini piccoli se sono in giro un po' più grandi se posso a casa o adesso dove l'ho messo non lo so più uso anche i fogli più grandi che posso per segnarmi per disegnare grandi schemi per esempio i rapporti tra i personaggi oppure ecco uno schema un po' insolito a cui non si pensa mai nel caso dei gialli abbiamo delle relazioni tra i personaggi che spesso sono nascoste quindi mentre in una storia normale si scrive non so questo è amico di questo odia quell'altro in uno schema del genere per un romanzo di mistero una storia di mistero ci si segna chi conosce i segreti di chi magari ci sono dei ricatti magari ci sono delle complicità che sono segrete e allora me le segno in questo modo per avere sotto occhio sempre la situazione nel caso di libri come la serie della Ghirlanda ci sono tanti personaggi oltre a tanti luoghi quindi è indispensabile indispensabile avere una mappa di questo tipo dei personaggi e altre volte diciamo diventa meno importante sapere queste cose e si lavora di più invece sull'ambientazione come nei romanzi storici in cui si studia qual è la storia vera per poi potersi innestare con la storia inventata e far agire i nostri personaggi grazie mille della risposta passo la parola a Viola grazie io mi ho chiesto tornando al mistero di Villa delle Ginesse perché ha deciso di ambientarlo nel Regno Unito allora vedete che io sono un chiacchierone questa è una domanda che non posso liquidare in due parole cerco di essere però un pochino più stringato del solito tu avevi letto Dieci piccoli indiani mi sembra vero? sì esatto quindi hai conosciuto Agatha Christie Agatha Christie questa grande scrittrice di Gialli una donna eccezionale avanti rispetto ai suoi tempi scriveva le cose che conosceva che aveva intorno a lei lei viveva in Inghilterra aveva una casa in campagna e conosceva naturalmente anche l'aristocrazia vedeva i segreti il marcio intorno a sé e li utilizzava per i suoi romanzi come se noi adesso scrivessimo della nostra Italia flagellata dal Covid per esempio è il nostro presente il suo era quello è diventata però così famosa meritatissima non è un giudizio questo io adoro Agatha Christie ma è diventata così famosa che questo suo presente è per noi in realtà un mondo che si è un po' chiuso in una bolla è l'ambientazione del giallo classico quello di Agatha Christie è proprio quello non è più un periodo che ha vissuto qualcuno è un mondo fantasy in cui possiamo entrare con la nostra mente per ricreare delle storie come quelle di Agatha Christie e quindi ho voluto scrivere un giallo classico scrivere per ragazzi con l'ambientazione di questa bolla e quindi la scelta doveva per forza ricadere nella nella campagna inglese di un periodo non specificato però del passato che nella mia testa grossomodo l'inizio degli anni 50 tant'è vero che ogni tanto si cita ancora la guerra non si amica la seconda guerra mondiale dovrebbe essere più o meno quello grazie per aver risposto passo la parola a Carolina grazie la mia terza domanda è ma come mai se lei è un appassionato di gialli hai deciso anche di raccontare storie che non fanno parte del genere giallo perché come scrittore mi piace provare cose nuove e ho iniziato e quindi la mia reputazione è stata costruita su romanzi d'avventura come il ribello in fuga per esempio che è anche un romanzo storico oltre ad essere un romanzo d'avventura perché si svolge in un periodo molto preciso della storia italiana è ispirato a una storia vera quindi particolarmente legato alla nostra realtà e al nostro passato e quindi ho continuato a lavorare in quella direzione mi piaceva molto io sono a scuola non mi piaceva tanto e vi dico questa segreta verità ho imparato il fascino della storia crescendo dopo la scuola scuola sono tutti nomi date luoghi armistizio di qua battaglia di là non si capisce niente di quello che succede tutto a studiare a memoria in sequenza in realtà la storia è fatta da persone vere che per un motivo o per l'altro sono molto influenti ma sono persone normali no normali no è sbagliato sono persone come noi cioè hanno desideri passioni hanno obiettivi segreti necessità relazioni e questo fa sì che si creino delle grandi tragedie o grandi commedie secondo dei punti di vista molto profondi e molto affascinanti quindi ho continuato a scrivere romanzi di questo tipo come più veloce del vento che è la storia vera di Alfonsina Strada bellissimo il libro davvero bello l'ho amato tantissimo quel libro grazie è proprio un libro so via mi ha dato qualcosa prima di tutto vabbè è scritto benissimo come tutti i tuoi libri e poi cioè ma sarà che vengono fuori questi personaggi anche sconosciuti perché insomma Alfonsina Strada se non viene narrata così senza Facebook senza un canale social che descrive questo fenomeno di donna che si mette a sfidare i tempi e si mette a fare il giro d'Italia e questa cosa non si sa io non l'avrei saputa ecco e quindi ecco la lettura secondo me è importante anche per questo e quindi benvengano questi libri ecco che non sono da secchioni perché tutto sommato è scritto in maniera e cioè non è da dire che uno si mette lì e legge un trattato la biografia di Alfonsina Strada ecco non è noioso è scritto bene è proprio una narrativa ragazzi godibile e allo stesso tempo mi sono arricchita di una conoscenza ecco ho fatto un discorso noioso però insomma grazie mille e io lo sento molto perché quando dico romanzo storico tremo sempre perché rischio mi sto avvicinando troppo a quello che è la realtà scolastica della lettura che spesso è percepita come tediosa come un compito e non c'è niente di più lontano dai miei occhi la lettura è fugga della realtà è qualcosa che ci trasporta lontano che stimola la fantasia qualcosa di divertente divertente quindi quando dico romanzo storico è veramente un pericolo però è il nome giusto è proprio quello che è io ho speso mesi a fare ricerca storica più per mia soddisfazione personale forse che per essere apprezzato dai lettori ma quindi c'è una passione dietro che si vede in quel modo e me lo appunto al petto come qualcosa di cui essere orgogliosi più avanti ho sperimentato altre ho fatto altre ho scritto altre storie molto diverse di avventura pura per esempio con i randaggi del Klondike di spionaggio con il messaggio dell'impossibile la fantascienza come vi dicevo prima con Newman mi piace cercare cose nuove ora con i gialli è successa una cosa strana si è incrociato una forte domanda dei lettori con un qualcosa che mi diverte tantissimo io mi diverto proprio tanto a scrivere queste storie e ai lettori piacciono tanto e quindi gli editori me le chiedono tantissimo quindi penso che per un po' continuerò a scrivere gialli finché non mi stufo fondamentalmente continuano a venirmi in mente storie di mistero più che gialli gialli il libro su cui sto lavorando adesso per esempio è un horror ma è un horror in cui c'è un colpevole un serial killer che agisce e la cui identità emerge solo dopo un'indagine è un'indagine un po' strana non posso definirla un giallo però di fatto le caratteristiche alcune delle caratteristiche di questa storia le condivide proprio con il genere giallo è un horror perché per sua natura deve infastidire il lettore deve metterlo a disagio nello stesso tempo però c'è questa identità segreta e qualcuno che indaga per scoprire chi è quindi vedete che sto ragionando automaticamente già in quel tipo di logica poi vedremo in futuro chissà scrivere una storia d'amore una cosa che mai avrei pensato di scrivere non mi pongo limiti se trovo la storia giusta posso scrivere qualsiasi cosa fortunatamente bene grazie mille della sua risposta passo la parola a Gemma grazie Carolina e un'altra domanda che volevo farle era perché nel diritto allo specchio un ragazzino così piccolo come Tobias deve trovarsi un lavoro invece di essere aiutato da persone adulte beh Tobias è un orfano è un orfano in un mondo difficile lo presentiamo come un mondo abbastanza ostile poi lui ha questo passato di grande di grande disagio lui scappa dal riformatorio non ha un posto dove andare quindi comincia a vagare per l'Europa facendo esperienze per lo più criminali non è un rapinatore non è un assassino non è qualcuno che fa del male agli altri però vive di piccoli espedienti indubbiamente e quando incontra un qualcuno che gli offre una casa che gli offre ha un affetto paterno onesto no? assolutamente disinteressato perché lui vede un figlio essenzialmente e poi gli dà anche un mestiere un qualcosa per esercitare la sua mente perché è un lavoro di grande precisione e di grande intelligenza quello dell'orologio ma nello stesso tempo è artistico lui trova il suo posto nel mondo poi purtroppo anche qui le circostanze della vita lo costringono a ripartire e a trovare un'altra casa ma il suo passato poi è questo ci sono tanti libri che parlano di orfani che se la devono cavare come possono mi viene in mente mi vengono in mente i libri di Charles Dickens per esempio che forse è più famoso di tutti per maltrattare gli orfani non c'è nessuno scrittore più bravo di lui nel suo piccolo anche Tobias ha fatto questa esperienza c'è si parla anche di un periodo in cui la sistema dei minori non c'era e quindi non c'era l'obbligo di scuola fino a una certità non c'era non c'era l'obbligo di scuola e ma nel mondo esistono ancora realtà così eh sì sì ci sono tante e adesso in Ucraina la situazione è estremamente drammatica per esempio per parlare di un posto molto vicino in cui i ragazzi parlando del mondo dei ragazzi dovranno affrontare molti ostacoli molti ostacoli e non sarà una crescita serena quindi esistono queste realtà sono stati purtroppo sono stati sciupati perché quando c'è una crescita che viene spezzata in questo modo anche se poi il percorso ritornerà normale anche se l'interruzione è stata solo per 4-5 mesi e non credo ma comunque c'è stata comunque una spezzatura si è troncato la catenina bellina e quindi quello che viene dopo non sarà come era prima ecco non c'è un percorso logico di crescita come mi auguro che possiate avere voi ecco questo lo dico da persona da persona adulta un trauma quindi una ferita interiore causato a quell'età alla vostra età anche vale molto molto di più di un trauma che si vive nell'età adulta quando ormai la persona è formata e dovrebbe essere abbastanza forte da affrontare le difficoltà della vita per varie ragioni durante la crescita si è più sensibili più esposti a queste cose più fragili tuttavia Tommaso ha questa capacità nella scrittura che fa di necessità virtù quindi Tobias nel doversi per forza arrangiare per conto proprio quindi si trova diciamo nel nel posto giusto o al momento giusto e quindi ecco da qui si vede che insomma c'è anche il bel la bella idea no il respiro secondo me la bella cosa che comunque anche dalle situazioni più difficili e poi Tobias non è mica un personaggio triste oppure cioè lui è positivo alla vita no arriva lì e lui si mette subito a comodare un orologio perché insomma deve fare ben mostra di sé però ecco è fiducioso non è che sia se non riesco a fare questo cioè non mi sembra tragico ecco per cui è ben descritta ecco questa cosa che che dici Gemma? ti aveva intristito questa cosa qua? no no bene 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 è giusto che i libri da ragazzi non intristiscano se no non li leggerei grazie per la risposta passo la parola a Isabel scusa Isabel prima di lasciarti la parola davvero vorrei dire una cosa ancora in più che una caratteristica molto comune dei libri per ragazzi è quella dell'assenza dei genitori non necessariamente per diciamo che comporta la presenza di orfani ma i genitori hanno come posso dire non un obbligo ma la necessità ecco la necessità di porre dei limiti ai ragazzi ai loro figli per permettergli di crescere no? è in realtà una protezione da una parte e nello stesso tempo è una guida dall'altra ma è una limitazione sono regole che vengono imposte nei libri per ragazzi che sono spesso d'avventura le regole vanno infrante bisogna fare cose sbagliate cose pericolose cose stupide perché altrimenti i libri sarebbero noiosi sarebbero prevedibili sarebbero anche poco credibili in un certo senso perché personaggi di tutti i perfettini in realtà non esistono davvero quindi si esagera a volte certe volte spingendoli a fare cose che sorprendono il lettore a volte sorprendono anche lo scrittore e quindi rendono la storia sorprendente affascinante è ovvio questo passaggio per cui gli orfani in particolare non hanno neanche la conoscenza di queste regole quindi è ancora più facile spingerli a fare cose che mai ci si aspetterebbe da loro non è il caso specifico di Tobias che è una figura diversa da quelle che vi sto portando ad esempio adesso che sono quelle tipicamente dei libri d'avventura però questa assenza dei genitori quindi l'incapacità di subire questa costrezione a obbedire alle regole è fondamentale perché dà più libertà più fiducia ai personaggi e porta a vivere cose che nella vita reale non vivremo mai una curiosità così ecco Isabel scusami fai pure la domanda è vero grazie io avevo un'ultima domanda per quale motivo il libro il caso dei 66 secondi è ambientato a Londra alla fine dell'ottocento e non ai tempi di oggi per due ragioni che poi in realtà è una sola è un'ambientazione incredibilmente affascinante su cui tantissimi narratori hanno fantasticato non solo in letteratura ma ci sono film fumetti infiniti addirittura è una proposta che mi è stata rifiutata in passato da alcuni editori proprio perché l'ambientazione era già troppo vista troppo conosciuta e anche un po' fuori moda quando l'ho proposta io hanno avuto un bel successo questi libri quindi posso dire adesso beccatevi questa avete sbagliato ma perché è così affascinante perché è una città che in quegli anni era la città più importante del mondo piena di contraddizioni vive di contraddizioni la più estrema convive la magia lo spiritismo una credenza a un mondo innaturale no soprannaturale anzi il termine giusto e nello stesso tempo è un mondo che trionfa nella scienza e nella tecnologia con la rivoluzione industriale per esempio ci sono queste anime opposte che convivono e che creano queste situazioni di estrema ricchezza per esempio che convive accanto all'estrema povertà che anche nelle ragazze quelle che vi dicevo prima dell'ingiustizia sociale nei confronti delle donne che non permetteva tra le altre cose di studiare a livello universitario per cui noi abbiamo una ragazza che si deve travestire da muto tra l'altro quindi ancora più particolare molto affascinante come atmosfera magica e nello stesso tempo scientifica e francamente più ci penso e più mi voglio di scrivere storie in quel mondo lì che è lo stesso mondo di Sherlock Holmes perché lui viveva nella Londra di quegli anni e tra l'altro una curiosità che vi dico Conan Doyle il creatore di Sherlock Holmes che ha costruito questo personaggio così razionale così metodico nei suoi studi di criminologia è stato anche uno dei più curiosi sostenitori del movimento spiritico londinese andava alle sedute spiritiche c'era una medium che si chiamava Madame Blavatsky che era una famosa truffatrice che ha creato la società teosofica una ditta di fatto che portava avanti questa pratica delle medium e di queste sedute spiritiche che contattavano dal di là parlavano con le anime dei defunti esiste ancora oggi questa società teosofica esiste ancora oggi a più di cento anni tu pensa la peculiarità di questa cosa e Conan Doyle partecipava a queste sedute e per una buona parte ci ha anche creduto poi si era veduto più avanti con l'età però pensate che cose curiose nel mondo della Ghirlanda Sherlock Holmes esiste davvero e le ragazze lo ammirano perché leggono delle sue avventure i resoconti di Watson sul giornale è vero grazie mille per la sua risposta è un piacere noi abbiamo terminato il nostro tempo e anche ragazzi avete altre curiosità qualcosa da chiedere altrimenti salutiamo Tomato lo ringraziamo della partecipazione anche a distanza di Leggenda Festival mi avrebbe fatto piacere venire giù a trovarvi dico giù perché io abito in Piemonte e purtroppo non è stato possibile mi dispiace proprio tanto sarà per il prossimo anno noi non debordiamo d'accordo volentieri aprite i microfoni salutatelo arrivederci arrivederci grazie mille arrivederci arrivederci ciao ragazze leggendari vi mando un bacione ciao ciao e buone letture grazie grazie a tutti grazie a tutti